Prende le mosse dai dati audite l'incaduta libera alla riflessione del giornalista Gennaro Pesante. I talk show, salotti delle risse televisive sembrano in crisi stando ai numeri, eppure proliferano, offrendo sempre nuove passarelle ai politici. Forse non stanno morendo, sicuramente sono in crisi. Il fatto che però sono moltiplicati format indica che forse qualcosa di sospetto c'è, diciamo così. Io avanzo la teoria per cui il talk show non è un format funzionale al rapporto tra la politica e il telespettatore, ma è un format funzionale al rapporto tra politica e televisione. Il che si spiega, è spiegabilissimo, però non fa bene alla televisione e non serve alla politica. E se nel palinsesto della prossima stagione i talk show, una ventina alla settimana ormai, sono tutti riconfermati, è perché sono strumenti della relazione tra politica e televisione e poco hanno a che fare con gli ascolti. Si può dunque pensare di affiancare dei format alternativi di comunicazione politica pensati per il pubblico. Accanto ai talk show, nessuno dice chiudiamo i talk show, ma non è possibile proporre il racconto della politica soltanto attraverso quel format. Io mi rifiuto di credere che non esistano autori, giornalisti incapaci di scrivere un format alternativo al talk show.